Musica Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per sabato 22 ottobre. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare questa perturbazione in azione soprattutto lungo le regioni meridionali e quelle tirreniche. Nel dettaglio sulla nostra regione al mattino troveremo condizioni di cielo sereno lungo tutto il territorio regionale. Tuttavia le temperature risulteranno in diminuzione sia nei valori massimi che nei valori minimi. Non a caso la ventilazione risulterà sostenuta proveniente dai quadranti settentrionali. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche continueranno a risultare stabili su tutto il territorio ma i cieli si presenteranno sereni solamente lungo la fascia costiera mentre nelle zone interne dell'Aquilano assisteremo alla formazione di debole nuvolosità. Nel corso della sera le condizioni meteorologiche continueranno a risultare stabili su tutto il territorio tuttavia i cieli si presenteranno nuvolosi o poco nuvolosi. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.